Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Via libera dell'Aula al Piano Regionale Trasporti 2015-2024. Voto favorevole della maggioranza, astenuto il centrodestra e liste civiche, contrario al Movimento 5 Stelle. Il servizio di Alberto Scattolini. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria, con 13 voti favorevoli della maggioranza, 6 astensioni della coalizione del centrodestra e liste civiche, e il voto contrario del Movimento 5 Stelle, ha dato il via libera al Piano Regionale dei Trasporti 2015-2024. Dopo le relazioni in Aula della maggioranza, con Biancarelli, presidente della seconda commissione, e due dell'opposizione, Ricci, portavoce delle centrodestre e liste civiche, e liberati del Movimento 5 Stelle, numerosi sono stati gli interventi da parte dei consiglieri regionali. Le linee programmatiche e progettuali su cui è imperniato il Piano riguardano l'integrazione nella grande rete delle regioni europee, nuovi ruoli nel sistema delle regioni dell'Italia centrale, modelli sostenibili di mobilità a livello regionale. Il Piano avrà validità di 10 anni, con start-up quadriennale e periodi di revisione e monitoraggio triennali. Approvati, i quattro emendamenti, affirma Mancini e Fiorini Lega Nord, che sono stati ritirati nella loro formulazione iniziale, che li prevedeva all'interno della relazione generale del Piano Regionale dei Trasporti, in discussione e spostati nello scenario evolutivo 2024-2030. Presentati, anche cinque ordini del giorno, approvati con voto unanime, quelli bipartisan, che impegnano la Giunta regionale ad intervenire quanto prima e con ogni mezzo a disposizione, per ripristinare la ex ferrovia centrale Umbra, nei tratti attualmente interessati da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e a sostegno dei cittadini e pendolari dei territori locali e regionali, finalizzato al miglioramento del percorso e dei tempi di percorrenza del treno ICT Tacito. Sempre con voto unanime, approvato anche il documento d'indirizzo di Fratelli d'Italia e Forza Italia, per l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla rimodulazione, sin dall'esercizio 2016, dei trasferimenti ai comuni del Fondo Regionale Trasporti. A maggioranza è stato approvato l'ordine del giorno bipartisan, che prevede rispetto al raddoppio della ferrovia Orte Falconara, una variante al progetto che interessi il territorio eugubino-Gualdese, collegandolo con l'aeroporto di Perugia. Non è stato invece approvato, perché è stato sottolineato dall'assessore Echianella, argomento non attinente all'atto in discussione, un ordine del giorno della Lega Nord per l'attuazione di un programma triennale di manutenzione straordinaria della viabilità ordinaria dell'Alto Tevere. Approvata la mozione di Claudio Ricci per inserire nello Statuto della Regione Umbria la menzione di San Francesco e San Benedetto. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato con 14 voti favorevoli e 4 astenuti, i consiglieri del PD Chiacchieroni Leonelli e Cecchini e Rometti dei Socialisti, la mozione del consigliere regionale Claudio Ricci che chiede di attivare tutte le procedure necessarie per giungere nella sede della competente commissione all'inclusione della menzione dei Santi San Francesco, patrono d'Italia, e San Benedetto, patrono d'Europa, nello Statuto della Regione Umbria. L'atto è stato emendato su proposta del consigliere Andrea Smacchi con la specificazione che l'Assemblea esamini una proposta di legge da discutere nella commissione competente dal momento che con una mozione non si può direttamente cambiare lo statuto. Claudio Ricci ha messo in evidenza sia l'aspetto legato al rafforzamento dell'identità culturale che quello delle opportunità economiche legate a questo tipo di cultura e sensibilità, di cui, ha ricordato, abbiamo avuto prova in occasione del sisma del 97, quando furono chiuse le basiliche e venne meno il 50% del turismo. La mozione, ha specificato Ricci, tratta di materie culturali da inserire a livello istituzionale e non dell'aspetto religioso che è personale. Il consigliere Chiacchieroni ha motivato la propria stenzione affermando di non poter avallare qualsiasi proposta faccia fare un passo indietro alla laicità dello Stato, astenuto anche Silvano Rometti, secondo il quale l'equilibrio trovato nella composizione dello statuto regionale, non può essere modificato da una mozione discussa in aula. Astenuti, pur senza fare dichiarazioni di voto, anche Giacomo Leonelli del Partito Democratico e l'assessore Fernanda Cecchini. Se ne riparlerà dunque in commissione. Ampia maggioranza nell'assemblea legislativa per la mozione che chiede un impegno alla Giunta per affrontare i problemi di contaminazione di alcuni corsi d'acqua della Regione. Adottare tutte le iniziative necessarie per risolvere il problema dell'inquinamento dei fiumi Marroggia, Clitunno, Timia e Teverone collaborando con le istituzioni locali, i comitati e i cittadini interessati. E quanto chiede all'esecutivo regionale una mozione firmata da Silvano Rometti, socialisti e riformisti, e Giuseppe Biancarelli di Umbria più uguale ed integrata da un emendamento di Giacomo Leonelli del Partito Democratico che l'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato con l'assenzione di Liberati e Carbonari del Movimento 5 Stelle e Mancini della Lega Nord. Dopo gli approfondimenti richiesti nella precedente seduta, l'assemblea è tornata a discutere il documento che propone anche di monitorare il funzionamento dei depuratori per garantire la correttezza degli scarichi idrici autorizzati, così da reprimere eventuali abusi nonché con l'installazione di centraline di monitoraggio. L'atto di indirizzo prevede anche l'impegno per l'esecutivo regionale a riattivare quanto prima il tavolo di confronto sul contratto di fiume ed ancora a rafforzare il percorso di prevenzione dell'inquinamento, mettendo in atto ogni sforzo per evitare il rischio di declassamento dei fiumi Marroggia, Teverone e Timia. Audizione congiunta di prima e seconda commissione per il direttore della filiale Umbra della Banca d'Italia e per il presidente di Abbi Umbria. I consiglieri regionali hanno chiesto l'UMI sul monitoraggio della situazione che ha portato all'annullamento del valore di azioni e obbligazioni subordinate per migliaia di risparmiatori. I risparmiatori Umbri hanno visto sfumare in totale circa 27 milioni di euro fra azioni e obbligazioni subordinate in conseguenza del decreto cosiddetto salvabanche, una situazione che ha richiesto l'audizione del direttore regionale della Banca d'Italia Marco Ambrogi e del presidente di Abbi Umbria Pietro Buzzi, sollecitata dai consiglieri regionali della Lega Mancini e Fiorini e del Movimento 5 Stelle Liberati e Carbonari. La soluzione scelta è stata il salvataggio interno a carico degli azionisti secondo un ordine decrescente di rischiosità dei titoli, prima le azioni e poi le obbligazioni subordinate, ha spiegato il direttore di Banca d'Italia. Le regole attuali avrebbero consentito di ricorrere a fondi di risoluzione nazionali, previ avversamento integrativo straordinario perché sono incapienti, ma serve il parere vincolante della Commissione europea. Il governo italiano voleva intervenire con fondi di tutela, come già accaduto, ma la Commissione europea ha obiettato che ciò avrebbe significato mettere in moto aiuti di Stato. Ci siamo trovati a essere uno dei pochi paesi che non ha usufruito, come altri, di aiuti di Stato significativi e anche il primo a sperimentare le nuove regole. I consiglieri regionali Mancini, Ricci, Squarta, Liberati, Carbonari e il Presidente della Commissione, Smacchi, hanno chiesto ai bancari come è stata svolta la vigilanza sui quattro istituti di credito che hanno generato le perdite per i risparmiatori e se esistono altre situazioni a rischio per gli Umbri. La Banca d'Italia non vigila sulla somministrazione di titoli a privati cittadini e ha provveduto a commissariare gli amministratori ed emettere sanzioni. Con le nuove regole le sarà possibile non solo commissariare, ma anche rimuovere chi sbaglia. Allo studio anche la creazione di una bad bank, dove collocare le sofferenze degli istituti di credito. In Umbria il rapporto sofferenze-impieghi è del 21%, due punti in più della media nazionale che è del 19%. I cittadini che si sentono vittime di comportamenti commerciali scorretti possono ricorrere alla magistratura. Il Governo sta mettendo in campo azioni e strumenti per fare in modo che i casi individuali possano essere esaminati nel più breve tempo possibile. Forte impegno istituzionale a trovare una soluzione ponte per il 2016 e a lavorare per la stabilizzazione del rapporto di lavoro che garantisca il futuro dei 32 precari del terremoto del 1997 che operano ormai da 18 anni nei comuni di Nocera Umbra, Valtopina, Monte Santa Maria Tiberina e Vallo di Nera. Questo è quanto emerso dall'incontro tra una rappresentanza dei lavoratori, l'assessore regionale Antonio Bartolini e una delegazione dei gruppi dell'Assemblea Legislativa che si è svolto martedì 15 scorso a Palazzo Cesaroni. Regalità, ovvero la legalità come regalo più vero. È il titolo di un incontro dibattito che si è svolto alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli fra gli studenti delle scuole superiori di Assisi, liceo classico, liceo scientifico, alberghiero e polo bonghi, con il magistrato Luca Palamara e il capo della Polizia Alessandro Panza organizzato dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Quello della legalità è un tema che dovrebbe essere introdotto nei piani dell'offerta formativa delle scuole, ha detto la Presidente dell'Assemblea, Donatella Porzi, vista la sua importanza in un momento come quello attuale. Vogliamo generare fiducia nei ragazzi e stimolare la loro partecipazione su un tema importante che rischia di essere svilito da fatti come la corruzione e la conseguente disaffezione per le istituzioni. Le forze dell'ordine, ha detto il capo della Polizia Alessandro Panza, gli studenti garantiscono sicurezza e legalità, ma siete voi che dovete pretendere di vivere in un ambiente pulito, con una cornice di regole che consentano di poter esercitare la propria libertà e che rappresentano la vostra principale linea di difesa. La metafora sportiva è stata la più utilizzata grazie alla presenza del cronista Marino Bartoletti e anche il magistrato Palamara vi ha fatto ricorso. Serve un gioco di squadra, ha detto, e tutte le istituzioni devono fare in modo che possa funzionare, tutti sappiano andare nella stessa direzione. Per quanto riguarda il giudice, è vero che a volte sbaglia, ma ci sono troppe leggi che non funzionano e la certezza della pena sta diventando il tema cruciale perché è importante che si sappia che per determinati fatti chi sbaglia deve pagare. Nel pomeriggio si è svolto sui campi concessi dall'Angelana il quadrangolare di calcio fra le rappresentative dei magistrati, dei prefetti, dei frati minori e dei personaggi dello sport e dello spettacolo, fra i quali gli ex calciatori Novellino, Vannini, Ravanelli, Borrello, Zampagna, l'artista Mogol hanno vinto questi ultimi. Anche per questa edizione, l'ultima del 2015, è tutto. Vi ricordo che Telecru va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa e su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci. Grazie per la visione!